Ma tu oggi sei felice o no? Una domanda difficile, vero? Bene, io ti dico che c'è un metodo infallibile per scoprire se tu sei felice o no. In questo momento, non la felicità effimera, la gioia perché ha vinto la Coppa dei Campioni nella tua squadra del cuore, nemmeno la gioia o la felicità perché ti sei sposato, perché hai avuto un figlio, qualcosa di molto più grande. La felicità che è molto simile alla pace del cuore, tanto che nella scrittura appare molto più la parola pace che felicità, che gioia, perché quello che fa presente il cielo qui sulla terra, più della felicità e della gioia è la pace. E la pace del cuore, quella che sazia il nostro cuore, che lo custodisce da tutte le tentazioni alla disperazione, al lasciarsi andare, alla frustrazione, è la pace. La pace che Gesù Cristo risorto ha annunciato e donato ai Suoi Apostoli nel Cenacolo. Bene, tu hai questa pace, cioè tu sei felice o no? Allora, il metodo per scoprire se sei felice, se hai pace nel cuore, è rispondere a questa piccola domanda. Puoi dire oggi che Gesù nella tua vita, nella tua storia, nelle relazioni, nella tua famiglia, eccetera, ha fatto bene tutte le cose? Lo puoi dire? Ecco, se tu oggi puoi dire che Gesù Cristo ha fatto bene tutte le cose, allora sei felice. È la pace di chi conosce profondamente l'amore di Dio, che si è fatto carne in Gesù Cristo. E Gesù Cristo è la nostra pace, dice San Paolo. Lui è colui il quale ha messo pace nei nostri cuori, perché ha vinto la morte. E vincendo la morte e il peccato, con la sua resurrezione, ha dato a tutti noi la sua stessa vita, il suo stesso spirito, l'alito di vita. E chi ha dentro vita e vita eterna, cioè la vita del nostro Signore Gesù Cristo, ha dentro pace, ha dentro la pace profonda, che lo custodisce in ogni suo passo. Ma per avere questa pace, per avere il dono più grande, il dono messianico di nostro Signore Gesù Cristo risorto dalla morte, occorre poter ascoltare, perché la fede, attraverso la quale arriva a noi questa pace, viene, dice San Paolo, per mezzo dell'ascolto. Tu oggi puoi ascoltare? Chi ascolta, docile, l'annuncio del Vangelo, la predicazione della Chiesa, riceve in dono la fede e quindi gli occhi per poter discernere in ogni evento l'opera di Dio. L'amore di Dio per lui. L'amore che Dio effonde in ogni istante, perché Dio si fa carne in ogni istante della nostra vita. Dio non è indifferente a te e a me. Per questo chi ascolta la parola di Dio, chi ascolta la predicazione, è guarito dalla sordità del Superbo, di chi pensa di capire tutto, di non aver bisogno di nessuno, tantomeno di Dio. Per questo tutti noi abbiamo bisogno della Chiesa, che ci conduca ogni giorno a Cristo, che operi il miracolo fondamentale, quello di aprire il nostro orecchio. E' fatà, apriti, perché se non ascoltiamo non avremo mai la fede e senza fede non avremo mai il discernimento. Non potremo parlare correttamente di Dio, non potremo dire, annunciare e testimoniare che Gesù Cristo ha fatto bene tutte le cose, cioè che Dio attraverso Gesù Cristo, nostro Padre, ha fatto tutto bene nella nostra vita e quindi non saremo mai felici, perché staremo sempre chiusi nelle nostre murmurazioni, che le cose potrebbero andare diversamente, che ci sarebbe da aggiustare questo, da mettere a posto quest'altro, eccetera, eccetera. Sempre insoddisfatti, sempre senza pace. Ma invece Cristo è risorto e viene anche oggi, anche questa domenica, come tutti i giorni nella nostra vita, a dire a tutti noi, effata, apriti, ascolta la mia parola, ascolta l'annuncio del mio amore, ascolta il Vangelo, perché nella parola annunciata dal Vangelo c'è il potere di compiersi. Per questo, se apre il nostro orecchio, apre anche il nostro cuore, apre anche la nostra bocca, la nostra lingua, apre anche i nostri occhi, apre anche la nostra mente, ci apre completamente al nostro Signore Gesù Cristo, perché avvenga a prendere, dimora dentro di noi e se siamo uniti a Cristo, Cristo verrà in ogni evento, in ogni momento della nostra vita e tutto sarà fantastico. Anche le situazioni più difficili, anche le situazioni più dolorose, anche le situazioni più complesse, anche le notti oscure che dovremo affrontare, le affronteremo con Cristo. E se siamo con Cristo, chi ci potrà fare del male? Se Cristo è con noi, chi sarà contro di noi?